Ciao a tutti! Io sono Federica e come diremo noi sono una ballata di Musical.Mente. La mia caratteristica è sicuramente, come sanno tutti, che canto sempre e ovunque, fin da quando sono bambina. Il mio musical preferito è decisamente Grease e ancora di più High School Musical. Infatti è grazie a High School Musical che è nata la mia passione per il musical e soprattutto la mia passione per il ballo e la recitazione insieme. E quando ho scoperto che a Genova c'era una scuola che poteva darmi queste discipline tutte insieme, ho deciso, anche se un po' a rilento, finalmente di iscrivermi nel settembre 2015. Quando sono arrivata ho tirato un sospiro di sollievo e ho capito che mi sentivo a casa. Anche le persone con cui mi sono trovata subito alla prima lezione ho capito che erano tanto muove come me ed avevano il mio stesso entusiasmo e la mia stessa passione, che credo che sia proprio la cosa che ci unisce, che ci definisce. Una cosa più bella di quando vengo a musical è che tutto il mondo resta fuori e se mi è successo qualcosa durante la giornata, se sto male, a musical come chiudo la porta rimane tutto fuori, come ho detto. E veramente posso essere me stessa e esprimere quello che provo dentro con la sottra-disciplina che io adoro. Volevo ringraziare comunque la persona che mi ha fatto scoprire questa scuola e ringraziare Simone e Daniela per averla creata, perché credo sia un'opportunità unica che anche non tutte le città hanno, credo. Volevo mandare un saluto a tutti i miei compagni di Musical.Mente e ringraziarvi per quello che siete, perché siete fantastici e mi state regalando tantissimo.